ciao benvenuti cari amici di penello che andiamo a vedere le previsioni per la prossima settimana lo farò con tre stese abbiamo qui tre mazzi di tarocchi ti invito quindi a fare la tua scelta sceglierne uno come tuo mazzetto per la tua settimana però come ti dico sempre ascolta anche gli altri due perché semplicemente potresti ritrovarti meglio in uno degli altri due mazzetti o perché magari ci può essere anche un messaggio in più rivolto a te anche in uno degli altri due mazzetti e via dicendo questo è il mio consiglio personale poi vedi tu allora il primo mazzetto dicevamo con il quarzo rosa il secondo mazzo con l'avventurina verde il terzo mazzo di tarocchi con l'ametista giù sotto nella descrizione del video ti lascio i tempi per ciascun mazzetto e anche i link all'oroscopo 2022 di tutti i segni zodiacali e anche le informazioni per ottenere i mazzi di carte che ho creato io questo è uno dei due mazzi che vedrai durante la stesura delle carte quindi se ti piacciono trovi giù sotto tutte le informazioni ma andiamo a vedere prossima settimana che cosa accadrà partiamo subito vediamo la settimana del quarzo rosa andiamo a vedere parcheggiamo un attimo i tarocchi e partiamo dagli oracoli per vedere un po le energie generali questo è uno dei mazzi che io ho creato se hai interesse ad avere questo mazzo di carte trovi giù nella descrizione del video tutte le info a riguardo allora per il quarzo rosa come trascorreranno la settimana tutte queste persone vendiamo un po le energie che cosa dove ci instradano diciamo questi oracoli per il quarzo rosa ok allora la prima carta qualcuno noterà il tuo valore quindi una carta molto molto bella dopodiché c'è questa graziosissima fanciulla che potrebbe rappresentare te se sei una donna o una donna importante se tu sei un uomo che ci parla di bellezza e intelligenza quindi già qui vedi qualcuno potrebbe rimanere ammaliato da te se sei una donna come stavo dicendo oppure se sei un uomo potresti tu notare notare questa donna fra la folla quindi sia per la sua bellezza che per il suo cervello per la sua mente creativa proseguiamo cos'altro per il quarzo rosa la situazione non cambia quindi un qualcosa che andrà avanti un po di tempo o sta andando avanti da un po di tempo cos'altro per il quarzo rosa ricchezza e lusso questa è una carta molto molto bella di di aumento di miglioramento di un qualcosa in più un surplus e il lusso no un qualcosa in più diciamo che arriva vediamo ancora per il quarzo rosa come sarà la settimana se vabbè volato tutto il mazzo qualcuno è curioso di sapere fanno vedere questo gattino no che guarda come a voler capire una situazione una somma di denaro che arriva bene 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 e qui vedi ricchezza e lusso e qui ci fanno vedere proprio il denaro ma allora queste sono carte molto belle sicuramente qui ci potrebbe essere una somma di denaro e aspettate da un po di tempo per esempio ora vedremo con i tarocchi che avete scelto naturalmente che cosa ci aggiungono però qui ci possono parlare come dicevo di una somma di denaro che sicuramente arriva arriva potrebbe essere una somma di denaro che vi doveva arrivare dal lavoro no magari avete fatto un lavoretto avete semplicemente fatto qualcosa e quindi sono giorni questi di paga in poche parole va bene una somma di denaro ma io qui ci vedo anche arrivare o qualcosa in più di quello che magari tu aspetti o te aspetteresti qui c'è un qualcosa in più oltre a quello a quello di cui tu sapevi non so come meglio come meglio dire qui veramente oltre a tutto quello che ti ho detto ci potrebbe essere veramente un'offerta di lavoro è durante questa settimana non l'escludo affatto un'offerta di un qualche tipo o ancora una risposta siccome fanno vedere la comunicazione una risposta che stavi aspettando ti potrebbe arrivare durante questa settimana io vedo anche questo cioè qui c'è un qualcuno che ti chiarirà qualcosa durante la settimana va bene quindi ho una risposta ad una domanda che avevi fatto un qualcuno ti chiarisce ti dice ciò che ha deciso di fare non so come meglio spiegarmi meglio di così non so andiamo a vedere ancora per il quarzo rosa per la settimana del quarzo rosa vediamo un po il loro atteggiamento cosa faranno queste persone guarda I am a divinely guided quindi qui sono guidata dal divino ovvero sia dalle stelle ora qui sarebbe curioso sapere di che segno siete poi vedremo con i segni zodiacali quando li tirerò andremo un po a vedere perché qui siccome mi parla ecco guidata dal divino quindi dal cielo dalle stelle sarebbe curioso vedere un pochino il vostro oroscopo no cioè di che segno siete ascendente avete eccetera eccetera comunque sia qui fanno vedere una persona cioè tu che stai ascoltando guidata dalle stelle dal cielo quindi una persona sicuramente protetta senz'altro come si dice tu c'è una buona stella in cielo ma buona stella anche nel senso che sei in un momento astrologico positivo favorevole capito ecco perché ho detto ora qui non lo possiamo fare siamo in tanti ma sarebbe curioso sapere di che segno sei o dove hai l'ascendente per capire solo qua sotto quale influsso planetario sei cos'altro per il quarzo rosa I am celebrated guarda questo mi richiama molto questa carta qui qui c'è un qualcosa da celebrare da festeggiare no vedi I am celebrated e qui mi fanno vedere qualcuno che noterà il tuo valore quindi io credo che qui veramente durante questa settimana potresti avere qualcosa da festeggiare ma nel senso proprio di una gioia che ti può arrivare magari proprio quella risposta che tu da tanto tempo aspettavi perché questa carta me lo dice mi dice che qui mi stanno parlando queste carte di una situazione che sta andando avanti e sta durando da un bel pochino di tempo vedi la situazione non cambia nel senso è da mo che tu sta aspettando che c'è un qualcosa che hai in ballo e potrebbe essere che proprio durante questa settimana grazie a queste carte tu possa venire a sapere qualche cosa cioè qui un qualcosa ti viene chiarito ti viene palesato sicuramente una somma di denaro qui ci sono dei soldi che arrivano queste po ma sicuro e secondo me potrebbero anche essere un po di più di quelli che tu ti aspettavi va bene ma anche qui c'è un qualcuno non so penso a chi di voi magari ha a che fare con una platea di persone quindi magari se avete lavorate con dei social lavorate al pubblico qui c'è un qualcuno che vi noterà quindi magari più clienti che arrivano più persone nuove no che apprezzeranno quello che fate eccetera eccetera va bene quindi per ora qui queste carte ci promettono senz'altro comunicazioni che devono arrivare un chiarimento quindi un qualcuno che ci dirà ci chiarirà la sua posizione su un qualcosa che sia una decisione presa che sia ecco eccetera dei denari che che ti arrivano è anche una qualche novità favorevole per quanto riguarda il lavoro vedo da queste carte quindi qui sinceramente per ora andiamo proprio bene vediamo con i tarocchi che hai scelto qual è la situazione del presente vediamo per il quarzo rosa per la settimana del quarzo rosa al presente la torre vediamo un po il vedi la torre e il 5 di denari qui è successo o sta accadendo un qualche cosa che ti potrebbe veramente aver messo in difficoltà ok quindi un aiuto che non stava arrivando del denaro che non ti stava avvenendo cioè che non ti veniva pagato che non ti sta arrivando viceversa del denaro che esce capito quindi delle spese impreviste insomma ok qui c'è un qualcosa che effettivamente ti mette un pochino in crisi ti mette un po in crisi e potrebbe riguardare veramente una situazione economica quindi proprio di di denari proseguiamo quali potrebbero essere gli ostacoli quarzo rosa quarzo rosa eccola la il giudizio vedi il giudizio e nel taglio la regina di bastoni quindi io credo che qui ci sia veramente una situazione che si sta strascicando e qui ce lo stanno dicendo gli oracoli da un bel po di tempo una situazione che non ne può sapere di chiudersi ogni volta si riapre per esempio magari state chiamando state insistendo con qualcuno perché dovete avere i vostri soldi oppure state aspettando una risposta che non sta arrivando c'è qui che la situazione si sta strascicando da un po di tempo e la prima cosa ci hanno detto le carte quindi qui c'è una situazione ma anche qui ci potrebbe essere come stavo dicendo la decisione di qualcuno che sta attendendo che tende a non arrivare la cosa ci fa innervosire insomma le situazioni possono essere le più disparate però ecco fanno vedere al momento presente diciamo in apertura una situazione un pochino insomma un pochino antipafia sinceramente un pochino pesantuccia andiamo a vedere cosa sta per accadere vediamo i primi avvenimenti per il quarzo rosa guarda ah ah andiamo qua sotto che c'era la regina di spade allora il 6 di il 6 di bastoni perché c'è il 6 di bastoni e vuol dire guarda il 2 di denari cos'è quel 6 di bastoni il 3 di coppe e il papa eccola allora qui cosa succede succede che questa famosa comunicazione di inizio lavori di arrivo di soldi di una situazione che si va a risolvere e bla 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 saprete voi qui effettivamente si sblocca quindi già subito boom in apertura settimana qui le carte parrebbero dire una situazione che si sta strascegando da tanto tempo una situazione vecchia che voi proprio avete la barba ossia ne potete più si va a risolvere qui posso vedere anche semplicemente dei lavori in casa che dovete fare o magari dei soldi che state aspettando proprio per un discorso per casa vostra o per un vostro familiare ok qui la situazione si risolve la comunicazione arriva la decisione arriva e ti vedo proprio gioire ti vedo proprio contenta o contento l'evoluzione quale sarà per il quarzo rosa come evolverà quindi poi di nuovo il nove di spade e il cinque di bastoni e l'otto di spade che era nel nel taglio allora qui io non so come cioè non so lo posso sapere da queste carte qui come è una situazione che sta andando avanti da un bel pezzettino di tempo io qui vi vedo preoccupati qui c'è proprio la preoccupazione o per il lavoro proprio manuale nel senso che c'è un qualcosa che dovete fare lavoro in tutti i sensi quindi il lavoro vero perché vedo anche il lavoro se non è il vostro caso lavoro nel senso cose pratiche che dovete fare vedo anche la ristrutturazione di una casa per esempio magari semplicemente dovete cambiare il divano cioè voglio dire io ok dovete un po' adeguare alla vostra vita alla vostra situation quindi qui c'è una forte preoccupazione un forte stress per queste persone però state tranquilli perché qui risolvete alla fine i soldi arrivano e vi vedo pure celebrare come dire wow yes ok qui c'è un miglioramento di una situazione che vi ha fatto stare sui carboni ardenti vi vedo proprio nervosa agitati insonni si dorme male la notte insomma qui c'è tanta di quella ansia andiamo a vedere quindi per la settimana ok vedi il cavaliere di denari e nel taglio c'era il cavallo di coppe due cavalli eccola la sì due cavalli proprio ok per l'evoluzione della settimana due cavalli che sono cavalli bellissimi sono cavalli che portano buone notizie buone novelle buone novità il buon cammino quindi qui c'è proprio la situazione come ti stavo dicendo che si apre con una torre sicuramente ci potrebbe essere anche proprio una notizia che arriva un fulmine a ciel sereno che ci lascia un po' ridi mi insonnia magari ti arriva una multa ti girano un pochino le le biglie ecco e poi invece riesci a sistemare tutto il discorso per dire non è detto che sia chissà che cosa va bene quindi qui c'è proprio questa sistemazione questo chiarimento se vuoi anche che ti può arrivare magari una situazione come stavo dicendo di cui aspettavi di cui aspettavi risposta ma di nuovo questo cavaliere di denari mi riconferma un po' anche quello che vedo anche qui vedi sono due carte che mi dicono la stessa cosa vediamo se l'acchiappo qui c'è in arrivo proprio una somma una somma di denaro durante questa settimana che sia uno stipendio che sia un'altra cosa questo lo saprai se per ognuno di voi può essere un discorso diverso ma arrivano dei denari va bene quindi quarzo rosa qui vai a risolvere una situazione che veramente ti ha fatto stare con il groppo in gola e il fiato sospeso di lavoro di lavoro in special modo si ha a che fare con la creatività ma anche di altro perché vedo anche per esempio dei lavori di ristrutturazione che devi fare e bla 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 una situazione ti verrà chiarita chiarita quindi verrai a sapere a scoprire un qualche cosa tant'è che ti vedo proprio celebrare ti vedo proprio ah come dire finalmente ce l'ho fatta dopo tanto tempo dopo tanto patire fammi sapere di cosa si tratta vediamo i segni zodiacali quarzo rosa quarzo rosa ok qui ci sono il segno del leone e dei pesci che sono usciti il cancro segno della vergine la bilancia il sagittario e that's it basta non ne tiro non ne tiro più va bene? fammi un po' sapere e andiamo a vedere adesso l'altro mazzetto vediamo l'avventurina verde come ho detto all'inizio questi sono gli oracoli volume 2 questi sono i tarocchi come vedi dal timbro sono carte che ho creato io quindi se hai interesse ad avere uno di questi mazzi di carte trovi tutte le informazioni giù qui nella descrizione del video così come anche i link all'oroscopo 2022 per l'anno 2022 che ho fatto per tutti i segni zodiacali quindi vattelo a vedere perché merita avventurina verde vediamo le energie generali con gli oracoli cosa sta per accadere a queste persone? avventurina verde la settimana dell'avventurina verde quali saranno le energie generali? cosa vedete accadere per tutti coloro che hanno scelto l'avventurina verde? cos'è il volato qua? attrazione puramente fisica quindi qui parrebbero mandarci sul discorso proprio amore no? sul discorso affettivo ma non è detto si parli solo di quello andiamo a vedere ancora attrazione puramente fisica avventurina verde cos'altro vedete? il destino smuoverà le situazioni per te riceverai un dono? mamma mia si fa interessante cos'altro per l'avventurina verde? cosa accadrà durante la settimana? come trascorreranno la settimana? coloro che hanno scelto l'avventurina verde? ok un viaggio lontano altra carta molto bella 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 cos'altro per l'avventurina verde? wow messaggi in arrivo guarda come guarda come parlano le carte nel taglio c'erano le lacrime ho capito ma allora qui la prima cosa che mi viene che mi viene da dirti letteralmente aiuto aspetta togliamo il mazzo ecco letteralmente qui ci sono messaggi in arrivo da lontano quindi se hai qualcuno che ti sta a cuore lontano qualche familiare o un amore che ne so io insomma qui ci sono dei messaggi in arrivo da lontano che sia proprio l'estero visto che qui c'è proprio il mappamondo il mondo intero sia che sia qualcuno semplicemente di di lontano da te quindi messaggi in arrivo da lontano letteralmente ma anche un dono che ti può arrivare da qualcuno magari durante questa settimana ci sarà chi fra di voi avventurina verde compie gli anni per esempio per esempio oppure ci saranno altri motivi per ricevere o fare un dono perché io devo tradurre tutto no nel suo complesso quindi qui ecco ma anche qui stavo dicendo vedo anche un qualcosa che arriva in più di quello che vi eravate immaginati per esempio qui ci può essere un dono va bene ma anche per esempio non so vi aspettavate dei denari o anche se non ve li aspettavate questi arrivano e vi arriva un qualcosina in più di quello che avevate immaginato o perché spendete di meno o perché vi arriva di più fatto sta che qui c'è proprio questo dislivello no questo qualcosa in più che vi arriverà che arriva nelle vostre tasche una sorpresa insomma non mi veniva la parola ecco l'ho vista anche in un altro mazzetto vedete perché vi dico buttatelo un occhio anche sugli altri mazzetti perché si completano molte volte io ci ho fatto caso ormai negli anni insomma qualcosina avrò capito no che dite ecco quindi fatelo ci possono essere anche degli incontri con delle persone incontri fortuiti no incontri che avverranno per caso ha visto ci sono quelle giornate dice madonna questo periodo incontro tutte persone insomma che già conosco ecco un qualcosa anche di questo tipo ma proseguiamo andiamo a vedere guarda qui le cose girano bene qui c'è una sorpresa in arrivo per te un qualcosa di fortunato anche un'occasione una botta di ecco capito un qualcosa quindi devi essere pronto pronta a saper cogliere anche allora per l'avventurina verde vediamo un pochino la settimana dell'avventurina verde guarda I am supported e qui fanno vedere questa donna con queste piume d'angelo diciamo così quindi qui c'è proprio un qualcuno un qualcuno un qualcosa all'universo insomma non so in cosa credete voi ok diciamo il destino il fato le stelle che sono dalla vostra vedi qui c'è proprio un aiuto un aiuto un colpo di fortuna il destino dalla vostra anche qui sarebbe curioso sapere di che segno siete ma lo vedremo dopo anche per quanto riguarda i segni zodiacali capito sto pensando non so a questo giovane no che è entrato nel segno dei pesci ma vatti ascoltare il tuo oroscopo 2022 trovi il link qui sotto per il tuo segno zodiacale perché qui c'è proprio il cielo che è dalla tua non so come meglio dire vedi il fato che è dalla tua e me lo conferma questa figura d'angelo quindi sono carte molto molto belle queste qui c'è un aiuto che arriva da qualche parte vediamo il destino il fato è dalla tua quindi sfrutta questi giorni sai un qualcosa da fare per l'avventurina verde cos'altro I am lovable io sono amorosa amorevole adorabile insomma traduscilo come ti pare va bene quindi una persona amata insomma amorevole ecco è la traduzione che più che più mi viene quindi qui fanno vedere anche da queste carte un incontro magari proprio qui c'è no? questa attrazione sessuale un incontro magari con la persona del nostro cuore ci potremmo vedere ci potremmo sentire magari stiamo organizzando un viaggio con la persona che è nel nostro cuore e bla 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 ma vediamo la sentenza dei tarocchi vediamo i tarocchi che cos'hanno da dire allora qual è la situazione presente per l'avventurina verde da che situazione partono queste persone guarda allora il fante di bastoni ok vediamo quali saranno gli ostacoli che potrebbero pararsi davanti per queste persone ora ve le traduco subito ecco queste sono due il sette di coppe e l'asso di denari allora qui tutte le carte mi parlano veramente di novità senz'altro di novità in arrivo di comunicazione che arriva e mi fanno rivedere in lontano quindi qui o avete figli lontani o amici o magari per il lavoro magari semplicemente lavorate con con l'estero penso a chi lavora su internet per esempio va bene molti scambi molti messaggi molte comunicazioni molte novità molti denari che arrivano qui ci sono anche dei bei guadagni che arrivano queste sono carte belle bambine io ve lo dico quindi qui ma non solo quello qui c'è anche una persona che vi piace assai ok una persona che vi piace assai che potrebbe arrivare a farsi sentire durante la settimana queste sono carte molto molto belle proseguiamo vediamo per l'avventurina verde cosa sta per accadere quali sono gli avvenimenti che stanno no che c'è 100 carte però vedi praticamente ci dicano la stessa cosa ah signore ma l'ho vista vabbè troppe carte io non amo troppe carte però vabbè allora re di spade madame re di spade amanti asso di bastoni asso di bastoni bambine andate dall'estetista regina di bastoni 8 di bastoni e dalla parrucchiera cavaliere di coppe 5 di denari cioè qui cioè qui e sono volute cadere e loro lo sanno io non voglio tutte queste carte ma sono cadute allora re di spade amanti asso di bastoni regina regina di bastoni 8 di bastoni cavaliere di coppe 5 di denari allora qui c'è un incontro insomma come posso dire qui c'è un incontro di passione diciamo di passione ma me lo diceva già anche questa carta vedi ok qui c'è un incontro di passione in cui insomma diciamo qui c'è la consumazione ecco non so come meglio dire per non rincorrere in va bene quindi qui c'è la consumazione quindi vai dall'estetista se hai bisogno vai dal parrucchiere se hai bisogno sistemati preparati perché ti dico questo perché qui è un'occasione che arriva così non so perché quindi o che vi ritrovate o che ti arriva questa chiamata dai vediamoci fra due ore sono lì non lo so insomma fatto sta che qui c'è questo incontro passionale fra queste due persone io qui vedo a parte fanno vedere proprio la coppia con quegli amanti lì ma fanno proprio vedere questo re di spade con questa regina di bastoni ora dopo tiriamo anche segni zodiacali però ti posso dire che qui posso vedere un uomo facente parte di un segno di aria quindi un gemelli o un bilancia o un acquario con l'ascendente e una donna segni di fuoco va bene leone ariete sagittario fatto sta che qui c'è proprio questo invito a uscire questo rivedersi questo trovarsi questo viaggio anche questo spostamento da qualche parte se vuoi e questo incontro passionale che sta per accadere avventurina verde vediamo l'evoluzione quale sarà l'evoluzione avventurina verde il 2 di bastoni e qui c'è il vedi guarda guarda e c'è il giudizio vediamo un attimo soltanto voglio chiedere perché c'è il 2 di bastoni nell'evoluzione cos'è quel 2 di bastoni quindi cos'è quel 2 l'imperatore con l'asso di coppe eccola là ma io credo che questa sia una persona una persona che senz'altro potreste rivedere risentire eccetera eccetera però è anche una persona tutta un pezzo quindi potrebbe essere anche una persona che non vi darà soddisfazione più di tanto non so come meglio come meglio dire questa è una persona per cui senz'altro potremmo aver patito un pochino potremmo aver sofferto insomma un po' un re di spade fa girare sempre un pochino le scatole è un re di spade ecco però è come se dopo questo incontro dopo questa cosa bella bellissima passionale stionfo cosa piena di fuoco di passione di eros di tutto quello che ti pare ci siano dei tentennamenti dei ripensamenti delle indecisioni come se oddio e ora capito e ora ecco vediamo come va a finire e quindi qual è il risultato della settimana ok la giustizia ne voglio un'altra settimana settimana per l'avventurina verde esatto vedi il due di denari e il fante di coppe guarda che c'è nel taglio guarda guarda il due di coppe del taglio quindi qui veramente si parla di un incontro d'amore un incontro di passione durante questa settimana allora qui se devo aggiungere qualcosa posso vedere l'uomo in divisa perché lo vedo da tutte le parti quindi te lo dico quindi una persona che ha una divisa un camice quello che ti pare ok potrebbe anche essere una persona che viene da fuori o comunque qui c'è uno spostamento di un qualche tipo che uno dei due dovrà fare ma c'è anche una situazione che si va a riequilibrare a rimettere a posto a rimettere ok non solo ora vi ho parlato di questa storia perché me la fanno vedere le carte ma anche tutto quello che ti ho detto prima i denari e lo spostamento e quant'altro quindi settimana bellissima qui c'è una sorpresa wow ok una sorpresa che ti arriva che ti sorprende bella quindi sicuramente comunicazione in arrivo ma anche magari è proprio quella la sorpresa ma anche se la sorpresa non è quella ma anche questo incontro di cui ti sto di cui ti sto parlando quindi bellissime fammi sapere perché wow scusate ancora sto virus mi ha lasciato sto strasio della voce devo stare più bassa vabbè ora vado all'urda fammi benedire comunque avventurina verde quali segni zodiacali vedete coinvolti in queste vicende andiamo a vedere ok qui subito il segno wow del leone e l'abbiamo visto vi ho detto i segni di fuoco lo scorpione il cancro cos'altro quali altri segni zodiacali vedete l'acquario e siamo al segno d'aria l'abbiamo visto oh signore il toro lo scorpione l'abbiamo visto sì quindi lo scorpione viene confermato la bilancia quindi acquario bilancia i due segni d'aria di cui vi parlavo la vergine il capricorno e il segno dei pesci mi fanno mi fanno vedere le carte quindi una sorpresa bellissima che arriva un dono che arriva e questo incontro proprio di passione questo incontro wow quindi fammi sapere nei commenti mi raccomando andiamo a vedere l'altro mazzetto vediamo la settimana della ametista andiamo a vedere partiamo dagli oracoli vediamo un po' le energie generali questo è un mazzo che ho creato io ok se ti interessa trovi giù nella descrizione del video tutte le informazioni come trascorreranno la settimana coloro che hanno scelto l'ametista vediamo un po' le energie generali ti ricordo se tu non l'avessi ancora fatto che ho fatto l'oroscopo per l'anno 2022 per tutti i segni zodiacali trovi giù nella descrizione di questo video i link per andare a tutti i segni ok allora vediamo un po' la settimana devi decidere qui c'è una decisione da prendere quindi ti potresti ritrovare davanti a un bivio e decidere cosa fare se andare a destra se andare a dritto scusa se andare a destra o andare a sinistra o a dritto proprio nel muro come si dice dalle mie parti quindi qui ci sarà una decisione da prendere o almeno qui sai che devi scegliere devi decidere un qualche cosa vediamo e sembrerebbe che tu decida e deciderai di allontanarti da una situazione quindi a prendere le distanze da qualcosa o da qualcuno poi vediamo anima gemella quindi qui fanno vedere che magari stiamo parlando di una coppia ora lo vedremo man mano la settimana per la per l'amethista stavo dicendo una somma di denaro che arriva ok cos'altro andiamo a vedere amethista la settimana la settimana per l'amethista cosa vedete accadere 240 1400 carte anche no una carta per favore l'ultima per l'amethista cosa vedete accadere durante la settimana per queste persone altre due va bene rancore e voglia di vendetta wow e fatti valere mamma mia allora qui lo dice la parola sembrerebbe che durante questa settimana tu non solo ti allontanerai deciderai di allontanarti da una situazione ma tu lo farai anche bella sia che tu sia uomo che tu sia donna naturalmente anche molto arrabbiata qui fanno vedere proprio fatti valere quindi una persona forte grintosa determinata a farsi valere appunto ora qui mi parlano di rancore e voglia di vendetta quindi una persona molto arrabbiata facciamo un pochino la tara facciamo un pochino ecco però qui appunto sembrerebbe mi stanno dipingendo questa persona cioè tu che stai ascoltando come una persona insomma bella determinata bella tosta bella decisa insomma no apprendere le distanze mi stanno facendo vedere da una situazione ti allontanerai da una situazione quindi qui ti vedo proprio dare le spalle come stavamo dicendo a qualcosa o a qualcuno va bene a qualcosa o a qualcuno effettivamente non credo che sia una situazione nuova questa perché qui ti fanno vedere proprio il bivio quindi si arriva ad una decisione quindi non credo sia un impeto del momento non credo sia un litigio non penso che sia un qualcosa così che si decide su due piedi no qui semplicemente potresti allontanarti allontanarti senza litigare qui fanno vedere la rabbia e la determinazione la voglia la boom bella la forza di decisione no il potere forte delle popazioni ma non vedo litigi quindi qui potresti decidere di girare i tacchi andartene da questa situazione senza proferire parola zitta zitta via e te ne vai ora lo andremo a vedere naturalmente con i tarocchi è questa carta quella che mi fa pensare ok anima gemella quindi qui potresti allontanarti da questa persona che è una persona che comunque ti stava o ti sta a cuore naturalmente ma potrebbe riguardare anche qualcos'altro visto che qui c'è una somma di denaro accanto quindi o avevi un accordo con qualcuno per denaro o un socio in affari mi viene da pensare la coppia ma la coppia in affari ok quindi qui vedi un pochino se di cosa ti stanno parlando queste carte per ognuno di voi mi può parlare di una situazione diversa poi con i tarocchi ovviamente capiremo ovvio no però diciamo che già mi prospettano una situazione di split qui fanno vedere la decisione mi fanno vedere proprio o a destra o a sinistra ok e siccome poi qui mi parlano che ti allontani da una situazione insomma andiamo per gravi vediamo ancora con questi oracoli per l'amethista per la settimana cosa vedete per l'amethista per la settimana guarda I am wild and free libera e bella proprio quindi qui c'è proprio la libertà la libertà il tornare libera eccola là mi libero di una situazione e ti vado nel bocciolo come si dice dalle mie parti sono stufa adesso basta tiro fuori il carattere ok tira fuori il carattere io mi faccio valere basta non ne posso più e torno libera wild and free e fanno vedere anche la carta che rappresenta anche anche il segno dei gemelli poi andremo a vedere i segni zodiacali naturalmente ma già mi anticipano i gemelli I am connected quindi qui ci sono messaggi messaggi comunicazioni senso di libertà e di liberazione fosse anche solo per il fatto che riesci a decidere da che parte stare e da che parte andare quindi io qui vedo una persona che si riprende la propria libertà la propria un atto di coraggio proprio come dire basta mi sono rotta ciao addios ok anche abbastanza arrabbiata ma non vedo litigi questo no vediamo i tarocchi vediamo con i tarocchi per l'ametista cosa vedete accadere durante la settimana partiamo dal momento presente qual è il momento subito si abbomba e infatti chi esce fuori è un uomo e te pareva il re di bastoni ora siccome qui c'è anche il carro l'otto e guardala qui queste carte ci potrebbero parlare di un uomo cioè un uomo e una donna naturalmente perché qui ci hanno fatto vedere quest'anima gemella quindi qui potreste girare i tacchi allontanarvi da questa situazione perché vista stretta vista stretta è perché ritenete giusto fare un passo del del genere ok sia di amore ma anche di lavoro come vi stavo dicendo perché queste carte mi possono richiamare anche un come si dice un accordo un gemellaggio lavorativo lavorativo quindi andarvene da qualche parte va bene ma andiamo per gradi quali saranno gli ostacoli per chi ha scelto l'ametista quali saranno gli eventuali ostacoli per queste persone ok qui è volato l'otto di bastoni e nel taglio c'era il cavaliere di coppe qui ci potrebbe essere una una situazione semplicemente anche esattamente una comunicazione che vi fa irritare o qualcosa che vi viene detto narrato che un cambiamento negativo quindi magari una persona con cui ci eravamo accordati per un qualche cosa che sia stato un appuntamento che sia stata una promessa fatta per il lavoro bla 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 che non voglio dire si tira indietro però che ringamba cioè sì insomma qualcosa che cambia ma in peggio quindi un appuntamento che salta un uomo che non sentiamo più appassionato a noi un'uscita che avremmo dovuto fare però ci salta insomma c'è un qualcosa e ci fa saltare proprio nervi insomma qui ora facciamo la cara perché si parla di una settimana ma questa sta a guardare un teschio un mano non sai come dir ti voglio morto ora no ti voglio morto no ma insomma qui il rancore c'è quindi qui c'è una persona arrabbiata come il minimo ok e si ritorna a questo re di bastoni qua quindi questo re mi richiama senz'altro un segno di fuoco ariete leone sagittario anche come ascendente naturalmente va bene ma non solo poi li vedremo i segni zodiacali quindi o il lavoro o una situazione proprio affettiva da cui decideremo di allontanarci con rabbia con stizza dentro va bene quindi non perché ci sia passata quale cosa sta per accadere vediamo per l'ametista vediamo cosa accade quali avvenimenti accadranno durante la settimana man eccola là il 3 di coppe che però è uscito capovolto anche se come carta non è mai malefica nemmeno capovolta è il fante di coppe vedi qui c'è qui c'è nei prossimi avvenimenti per la settimana qui c'è una notizia che arriva e me lo aveva confermato anche questa carta qui I am connected e qui vediamo arrivare questo fantino di coppe che ci porta questo pesciolino che ci porta questa novità ci porta un'emozione quindi qui c'è un qualcosa o un qualcuno che appare ok che appare non so se ve l'ho detto ma questi denari sono denari che comunque arriveranno anche quelli anche se come stavo dicendo potrebbero essere dei denari che aspettiamo che aspettiamo da mo comunque sia qui c'è una notizia che arriva una proposta che arriva un qualcosa che ci viene porto in modo dolce amorevole potrebbe essere questo re di bastoni ok che viene a ricercarci per riequilibrare riportare in equilibrio la situazione come potrebbe essere una situazione diversa fatto sta che qui durante la settimana ci saranno delle comunicazioni che entrano molto importanti perché ci faranno piacere quale sarà l'evoluzione e infatti vedi l'imperatrice e il tre di denari nell'evoluzione della situation e nel taglio vedi c'era la torre quindi io credo che qui ci sia una situazione o che voi avevate deciso di chiudere ti allontanerai da una situazione abbiamo visto e torni libera libera o libero mi raccomando parlo a tutte e due i sessi ve lo dico sempre I am wild and free ok mi libero di una situazione ma qui tutte le carte mi parlano come stavo dicendo di comunicazione e mi fanno vedere questa coppia qui sia che sia una coppia anima gemella sia che sia una coppia lavorativa come ti ho detto o d'amicizia insomma vedi tu la tua situazione personale uomo donna qui c'è un re di bastoni e un'imperatrice qui la coppia c'è quindi poi mi farai sapere nei commenti di cosa ti hanno parlato ste carte però qui c'è una comunicazione c'è un qualcosa di importante che entra e arriva potreste fare anche qualcosa insieme ad una donna magari uscire andare a fare shopping comunicare un qualche cosa quindi vedo anche vedo anche questo ma in special modo ecco qui c'è una comunicazione che arriva che per te sarà molto importante bella bella importante bella sostanziosa vediamo come va a finire qual è dunque il nocciolo della settimana per l'ametista e infatti non poteva essere wow il nove di coppe che è una carta bellissima come vedi qui il ragazzo il sire insomma riceve un vassoio pieno di ogni ben di Dio quindi una grande soddisfazione e il sette di bastoni del taglio e qui non posso non vedere che c'è anche un re di coppe quindi io credo che qui durante questa settimana sicuramente supereremo una fase molto importante con questa persona uomo o donna che sia dipende chi sei tu ci toglieremo una grandissima soddisfazione quindi un qualcosa di molto bello che ci verrà proposto che ci arriva ok una comunicazione molto bella molto positiva va bene che può portare alla pace con questa persona o a sistemare la situazione da cui ci eravamo allontanati non so se mi spiego sia che si parli della nostra anima gemella quindi di amore di affetto bla 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 sia che si parli come vi ho detto di lavoro di lavoro ok qui c'è molta comunicazione durante questa settimana qui c'è proprio telefonate messaggi movimenti bla 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 e anche un fare un qualche cosa insieme io vi vedo uscire uscire o fare un qualcosa con questo signore con questo re di bastoni o con questa imperatrice se tu sei l'uomo insomma va bene quindi qui c'è un qualcosa proprio una grande soddisfazione una vittoria potresti vincere un qualche cosa quindi non so se devi superare un esame se stai giocando un ambo al gioco del lotto se che ne so io ok qui c'è un qualcosa che arriva e ti farà tanto tanto piacere quindi qui si passa da questa voglia di vendetta e rancore invece alla gioia di una grande soddisfazione una grande novità vediamo i segni zodiacali quali segni zodiacali vedete coinvolti abbiamo visto i gemelli è la prima cosa che vi ho detto ok i gemelli qui ci sono in modo molto molto forte vediamo cos'altro quali segni zodiacali allora abbiamo detto i gemelli ci aggiungiamo il sagittario il cancro il capricorno lo scorpione il sagittario viene subito confermato il cancro viene confermato lo scorpione viene confermato vediamo quali segni zodiacali il toro l'abbiamo visto no ve lo dico adesso segno del toro la vergine cos'altro l'acquario ve l'avevo detto no ve lo aggiungo adesso la bilancia e il segno dei pesci e il segno dei pesci va bene ragazzi e ragazze quindi ditemi un attimino una settimana che proprio va a ribaltarsi quindi da prima si decide si prende una decisione si fa una scelta ci si allontana da una certa situazione anche con rabbia perché basta mi devo far valere adesso boom 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 però qui poi arriva proprio una soddisfazione meravigliosa quindi proprio una situazione una settimana è il caso di dire da così a così quindi fammi sapere grazie di avermi seguito un bacione e ti aspetto al mio prossimo video ciao eccoci qua vi lascio ai miei vi no ciao ciao Grazie a tutti